Strepitoso successo per la giornata dell'ambiente tenutasi a Morano per iniziativa dell'esecutivo De Bartolo. Mi piace dire che la cosa pubblica non è del sindaco, non è del comune, ma è di tutti i cittadini che partecipano alla vita amministrativa attraverso anche il rispetto della cosa pubblica. Amministratori, studenti, docenti, personale Ate, comitato genitori, associazioni del posto, cooperanti e operatori ecologici hanno alacremente lavorato per tutta la mattinata con l'unico proposito di restituire alla collettività bonificati e ripuliti da scarti ingautamente abbandonati in aspreggio alle regole più elementari del vivere civile tre siti preventivamente individuati. Uno è questo qua dove stiamo appunto, stiamo svolgendo la giornata, è il parco comunale Il Castello, poi abbiamo il parco, diciamo, il boschetto di Piazza Croce e il boschetto della Madonna della Nova. E in più ci sono, c'è la classe, la prima media che sta pulendo il cortile della scuola e il parco comunale giù. La ricetta, rivelata sia assai efficace nella sua semplicità, ha saputo coinvolgere i giovani e adulti in un processo di sensibilizzazione, avviato da tempo circa le problematiche dell'ambiente, riscuotendo con senso tra quanti hanno preso parte attiva alla manifestazione. Siamo con la professoressa Renda, ecco, come avete preparato i ragazzi prima della giornata? Noi abbiamo preparato i ragazzi a parte con delle attività didattiche all'interno dell'istituto, ma loro hanno lavorato preparando dei piccoli ricordini sul quale appunto hanno siglato una frase Io ci tengo, che significa? Io ci tengo all'ambiente, all'istituto comprensivo, all'istruzione, insomma, tutto ciò che possa riguardare, che possa avere una ricaduta didattica ed educativa per loro, insomma. Di queste giornate ce ne dovrebbero essere almeno tante, ma innanzitutto il messaggio deve essere lanciato ai giovani per ricevere la problematica ambiente, ma un messaggio deve essere dato anche ai grandi, perché molte volte sono proprio loro che deturpano le aree e l'ambiente. Forse con l'impegno scolastico, anche a livello del ministero che è stato lanciato, i giovani sono proprio quelli che danno il segnale ai genitori e poi ai grandi affinché venga rispettato l'ambiente. Entusiasmo da parte dei ragazzi, un'ottantina, quelli presenti, tutti iscritti all'ordine secondario di secondo grado del locale istituto comprensivo. Diciamo che ci siamo resi conto come l'ambiente, anche che ci circonda, anche l'ambiente cittadino è inguinato con molti rifiuti, ci rendiamo conto che noi ci dobbiamo impegnare a preservare la natura, perché diciamo che il mondo si sta inguinando sempre di più e se non facciamo qualcosa si inguinerà tutto quanto e non potremo più vivere. Il Papa è vero, ci esorta a custodire quella che è la nostra casa comune, quindi l'ambiente. Hanno risposto benissimo anche perché i nostri ragazzi hanno bisogno non di insegnamenti calati dall'alto, bensì di testimoni, di esempi da seguire. Pertanto abbiamo voluto in prima persona sporcarci le mani, tra virgolette, in modo da rendere la nostra Morano più pulita, la nostra Morano più vivibile.